Un numero alto che è cresciuto molto nelle ultime settimane è quello dei positivi in città, con quasi 3.000 persone in quarantena. Più di 1.500 è positivi attualmente in città, ma con sintomi lievi fortunatamente. Negli ultimi giorni si è assistito però a un calo rispetto alle altre province. In vista del rientra a scuola, Asle e Comune stanno pianificando uno screening sulla popolazione scolastica prima del 10 gennaio. A coordinare la Asle, il Comune sarà di supporto e sarà impiegato l'esercito. I comuni più piccoli si stanno organizzando da soli e c'è qualcuno che già oggi lo ha fatto, come Villa Sant'Angelo. Monticchi e Preturo dovrebbero essere due sedi di riferimento in città. A coprire zona est e zona ovest, mentre a Colle Maggio si procederà con i tamponi ordinari che sono morti al giorno. Verrà organizzato uno screening per quello che riguarda gli alunni delle scuole, proprio per garantire quello che è un rientro in sicurezza. Provvederà sicuramente quello che è il team militare, che andrà in collaborazione con quello che sono i vari comuni ed anche con quella che è l'Alza. Molti comuni, soprattutto quelli più piccoli, si stanno organizzando però autonomamente, anche perché voi sapete c'è una grandissima richiesta anche dei cittadini di tamponi e quindi sarà anche piuttosto oneroso e complesso garantire i tamponi un po' per tutti. Dottor Gianzante c'è anche un fenomeno, molti nelle farmacie stanno acquistando questi test fai da te, quanto sono attendibili e soprattutto quanto sono pericolosi perché sono fuori da ogni tipo di controllo e tracciamento rispetto per esempio all'antigenico che ormai è validato in farmacia? Allora non è che sono test non attendibili, molto fa anche la modalità in cui vengono effettuati e poi va detto che il rischio di questi tamponi è che sfuggano al tracciamento perché il fai da te fa sì che poi non ritorni sul sistema ATRA regionale e di conseguenza l'Alza non viene a sapere quelli che sono i nuovi positivi. Va detto che anche la modalità di esecuzione è particolarmente importante perché una mano inesperta non potrà certamente effettuare un test fatto nella maniera più opportuna. C'è da aggiungere che la difficoltà della ASDA è anche quella di gestire tutte le positività emerse negli ultimi giorni da test rapidi che sono considerati validi senza bisogno del molecolare di accertamento. Rispetto a un anno fa si stanno facendo più test anche per le feste natalizie appena passate e per cui molti casi che sarebbero rimasti sommersi stanno venendo fuori.